Eccoci, una nuova puntata di MTE, questa volta particolare sul Giappone, perché ho intenzione di parlare con un ospite, un ospite che probabilmente molti di voi conosceranno per Fantascientificast o Scientificast, ma vi ricordo prima di tutto i miei social, dove potete seguirmi, potete interagire, quindi continuate a seguirmi e tutto quanto. Ma intanto, sigla! Ed eccoci qua, finalmente, con il nostro ospite Marco Casolino. Grazie per essere venuto, Marco. E di che, Marco? Intanto qua ci ospitiamo a Vicenza, come si direbbe, quindi... Ah beh, sì, una settimana sì e una no, noi ci troviamo più o meno per fare qualcosa. No, quest'oggi qua, sul mio blog, volevo appunto parlare un attimo del Giappone, visto che io ci sono stato tante volte, e mi piaceva però, visto che ci ho vissuto tre mesi, non posso parlarne tantissimo in maniera approfondita, però vorrei che tu magari me ne parlassi in una maniera un po' più approfondita, da una persona che oramai ci vive da quanti anni? Eh, dunque, da undici almeno, cioè da dieci, sicuramente, io andai lì per lavorare subito dopo l'incidente di Fukushima. Sì. Perché io mi occupo di fisica spaziale, quindi sto all'Istituto di Fisica Nucleare in Italia, e andai lì a Riken per questa collaborazione internazionale, per fare questi telescopi, dice n'è uno sulla stazione spaziale, appunto, fatti in collaborazione tra il Giappone, l'Italia e altri istituti, e partì proprio la settimana, dieci giorni dopo l'incidente di Fukushima, per stare lì più tempo che in Italia. Poi, a parte queste debacle di questi ultimi mesi, facevo abbastanza su e giù tra Giappone e l'Italia, perché appunto è un esperimento internazionale, quindi richiede e consente, sia un vantaggio che uno svantaggio, di muoversi abbastanza, non solo tra queste due nazioni, ma anche altre. Approfonditamente poi è difficile parlarne, perché il Giappone è talmente complesso, che è stato tre mesi, con un ritorno abbastanza rocambolesco. No, tra l'altro, effettivamente, io la prima volta che sono andato in Giappone è stato 11 anni fa, era lontano 2009, quindi più o meno l'età è quella. Eh sì, sì, la prima volta andai nel 95, perché c'è una conferenza, ma insomma, diciamo una collaborazione grossa, partì dopo il lancio di Pamela, che è l'altro nostro grosso satellite che lanciamo nel 2006, c'era un collega giapponese che però viveva nell'Alabama, Takahashi Yoshiyugi, che poi è morto, poveraccio, e ci chiese di collaborare su questo esperimento EUSO, ed era il 2008-2009. Quindi poi ovviamente queste collaborazioni cominciano, poi possono morire oppure crescere come complessità in questo caso. Nel tuo caso è cresciuta e quindi tu, alla fine comunque, ti sei anche trasferito in Giappone, quindi fai avanti e indietro. Sì, faccio su e giù, esatto. Anche lì non è, ma lo dicevano tutti, ha cominciato le mie vecchie insegnanti di giapponese, ovviamente come turista ci si sta benissimo per lavorare, nel mondo della ricerca ci si sta bene, ma non è il paradiso che tutti possono immaginare, perché appunto anche fermandosi dal solo mondo della ricerca, anche lì c'hanno tutta una serie di problemi, impicci, chiamiamole mafie o comunque cricche che in qualche maniera sono molto chiuse e a cui è difficile poi entrare da fuori, non tanto in quanto straniero, ma in quanto non appartenente, che ne so, a quelli che vengono da lato Dai, che è la grande università di Tokyo o di Kyoto e così via. Quindi è un mondo abbastanza chiuso. Sicuramente è chiuso, molto più chiuso di quello statunitense che però ha altri problemi. Su quello italiano ci sono problemi differenti, sempre nel mondo della ricerca, però giocando su più tavoli si riesce appunto a fare cose appunto interessanti come questo telescopio che sta sulla stazione spaziale che ha portato su Parmitano l'anno scorso e che adesso viene operato dai russi, quindi insomma si riesce a fare... Io posso dire di averlo visto in costruzione dal vivo, perché quando sono venuto a trovarti al tuo centro di ricerca... Che anno era? Era il 2018, la primavera. Era la primavera del 2018 e io ti dico, è stato veramente interessante dal mio punto di vista. Però ecco, visto che hai accennato alla lingua, quando hai iniziato a studiare il giapponese? Perché è quello che, tipo per me è impossibile a questo punto imparare il giapponese per ovvie incapacità mentali, però nel tuo caso... Ma io ho cominciato nel 93 però, io l'avevo laureando di fisica nel 93 e cominciai ad andare all'istituto di cultura giapponese a Roma, che fanno dei corsi fatti benissimo, e ci andai per circa dieci anni, nel senso che il primo anno mi pare fu un corso di conversazione, poi c'era un corso di quattro... il corso vero e proprio è di quattro anni, che è beginner e intermediate, poi una volta di imbocciare, quindi avevo cinque anni, poi altri anni era una specie di corso avanzato, sempre di lingua. Lì però il problema è che ovviamente non studiandolo per motivi legati alla ricerca o allo studio, cioè era un di più, poi non c'è tempo di praticarlo, sì magari film, cartone animati, ma non più di tanto, è lo stesso problema che c'è a Riken poi, perché non usandolo molto per lavoro, solo in contesti con la segretaria, con i tecnici e così via, poi non fai pratica e quindi poi rimani sempre a livello... cioè l'apprendimento del linguaggio va per i radini, c'è un salto qualitativo legato al fatto che studi, che ti apri quello che vuoi, poi stai lì e se non studi, ovviamente non fai l'altro salto, però anche lì o uno la sera si mette e studia, eccetera, eccetera, ma nel caso mio la sera poi apre l'Europa e quindi col fuso orario cominci con le Skype, eccetera, eccetera, e quindi poi non hai modo di praticarlo, mentre ci sono parecchi colleghi o amici italiani che lavorano all'ambasciato nel campo della storiografia o nel campo delle leggi, che lo sanno perfettamente il giapponese, cioè quindi non è una lingua impossibile, è una lingua difficile, però come tutte le lingue vanno praticate. Poi c'è l'altro problema, è che è chiaro che non avendo quasi nulla in comune con le lingue indoeuropee, non è che, sì, qualche cosa che è l'inglesismo, ma pur lì sono totalmente distorti che spesso diciamo, ma questa è la parola inglese, alla fine. Io, vabbè, io ho sempre nella testa takusi, che vuol dire taxi. Takusi. Takusi è una cosa che... Poi tutte le storpiature, infatti, come ho già detto, io mi trovavo benissimo con le lingue, cioè con le parole storpiate dall'inglese perché le capivo al volo, erano tutte le altre che non mi entravano in testa. Comunque, con calma, sicuramente, riuscirò a capire. Guarda, alla fine lo dico, quel corso intensivo, anche se mi ha fatto male perché mi ha fatto male, che mi ha bruciato neuroni, dico che è servito perché comunque mi ha aiutato a entrare più nella mentalità giapponese. No, ecco, questo è importante perché, tra l'altro, la lingua è estremamente legata, forse a tutte le culture, ma in particolar modo a quella giapponese, nel senso che la grammatica, come tu poi sai, è molto semplice, cioè non ci sono declinazioni di verbi, sì, no, presente e passare, quindi ci sono quattro forme verbali, però è un linguaggio che si presta a essere vago o che comunque richiede che tu, quando parli con l'interlocutore, devi essere relativamente vago, cioè non dici e tu che ne pensi, no? Non è mai il tu, è molto forte considerato, e quindi tu dici, Marco, che ne pensa? E poi, di nuovo, non dici, io penso sta cosa, ma forse è così, insomma, in generale è un linguaggio vago che sposa un po' l'approccio sociale del giapponese che poi, per non essere messo in imbarazzo, per non metterti in imbarazzo, lascia sempre margine di manovra, ma lascia margine per dire, ah sì, ma io intendevo quest'altra cosa. E' uno dei problemi quando si lavora soprattutto tra Europa o Stati Uniti e Giappone, è un problema comunicativo fondamentale che noi... perché loro non ti diranno mai di no, eh, voglio dire, ecco, tra l'altro, insomma, se dovete mai tentare di rimorchiare ragazzi o ragazze giapponesi, quelle magari ti sorridono, ma non ti, se ti sorridono è perché ti stanno dicendo di no, ma non te lo vogliono dire, perché sono cortesi, ma non è che ti stanno sorridendo perché ti piace il pizzetto di Marco D'Addio, o forse il pizzetto di Marco D'Addio, sì, però, insomma, il no è una cosa molto forte che si cerca di non mettere mai l'interlocutore in condizioni di dover dirti no, ci vediamo domani, ah, domani, ciotto, un pochetto... Ciotto, ciotto... Allora, tu già hai capito, no, allora, facciamo un altro giorno, non ti preoccupare. Sì, infatti io capisco anche come si pongono al punto di vista fisico che iniziano, non so, a farsi un attimo indietro e ti dicono Sì, ciotto, allora tu capisci e dici, vai, ciao, ok, vai, vai, abbiamo già capito. Anzi, ritornando, visto che mi è venuto in mente, sempre legato alla lingua e alla tua professione, quindi di fisico sperimentale, mi ricordo che tu hai interagito con un noto studio di animazione giapponese. Ah, sì, ma lì andiamo, allora, ancora credo che siano a ridere le mie insegnanti giapponesi dell'epoca, perché nel 95 io andai con i colleghi di Digital Video, Digital Video è una ditta italiana che fa software e tra varie cose fa software per l'animazione. Hanno cominciato a fare questo software che è Toons, che si trova, che adesso è disponibile open source e per Fox, per Balto, credo fosse stato il loro primo lungometraggio. E io conoscevo lì un mio compagno di studi dell'università, poi lavorava lì e lui fu quello che si accorse che Studio Ghibli, appunto, questo studio giappone di Miyazaki, usava questo software. Poi scoprirono che era perché seguiva bene la cosa dei capelli, eccetera, lo usarono per la prima volta al tempo di Mononoke Hime, la principessa Mononoke. E quindi loro volevano tutta una serie di modifiche che erano legate alle caratteristiche specifiche dell'animazione giapponese, cioè gli highlights, le ombre, segnare a matita in maniera differente, vari colori, eccetera, eccetera, quindi andammo lì nel 95 e io veste becera di traduttore, che appunto quando le mie insegnanti dell'epoca sentirono sta cosa e cominciavano a ridere perché dicevano ma questo è pazzo, cioè che va. Tavo a dire che però lì ti arrabbatti perché anche lì non è che tu dici io vado lì e mi spaccio per essere un traduttore o si mutano meno che mai, mi spaccio per uno che sa un minimo di giapponese e quindi meglio che niente perché poi loro l'inglese lo sanno poco, lo parlano poco, male, 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 sì, comunque lo leggono forse, insomma, lo parlano, lo parlano sicuramente sempre vuoto per pieno e qui parliamo proprio con l'accetta, cioè che è chiaro che poi ci stanno e quindi andammo lì nel 95 andammo anche a Studio 4C, quello che incontrammo Otomo, quello di Akira che al tempo stava facendo Steam Boy, sì, sì, e poi Studio Geek usò questo software moltissimo, lo usa ancora, divenne open source perché Duango comprò questo software e adesso è open source, quindi se volete fare i cartoni animati, ovviamente se non sapete disegnare, dovete comunque sapere, però vi fa tutte le operazioni di scannerizzazione, ink and paint, selezione dei colori, la color palette, eccetera, eccetera, è considerata la Ferrari del software magari lo metto in descrizione, così metto il link in descrizione se qualcuno è interessato, perché comunque anche l'animazione è una parte fondamentale del Giappone, della cultura giapponese, direi. Sì, sì, anche lì è chiaro, poi usandolo Miyazaki e Studio Ghibli è tutto un altro livello, tanto più che gli altri studi poi lo adottarono relativamente poco perché dissero, ma noi usiamo cose più semplici e le facciamo in maniera molto più manuale, per esempio lì il codice è in grado di determinare i vari pezzi del corpo e magari anche autocolorarli e fare una serie di cose, allora lì c'hanno legioni sterminate di schiavi anche magari in Corea che ti fanno link and paint, appunto ti colorano tutto, oramai hai fatto tutto, cioè i disegni sono fatti ancora a mano, ma non ci sono più le cell, gli acetati una volta colorati, io c'erano tonnellate perché li vendevano anche a cifre ragionevoli, una può costare anche quanto una Ferrari, però quelle più piccole, anche e soprattutto quelle che a loro non piacciono, cioè tipo Gingro Book, allora non gliene frega niente, te le regalavano le cell di Gingro Book. Ma io guarda, mi sa che ne ho trovato qualcuna girando così per il Nakano Broadway, per la Nakano Broadway, esatto, esatto, da qualche Mandarache, ne ho viste uno o due lì, poi non sono stato a guardare perché non avevo neanche capito che animazione fosse, cioè che anime fosse, quindi ho lasciato un po' stare. L'unica cosa che mi era venuta in mente, oltre a questo, è tu come ti sei trovato i primi tempi con l'approccio giapponese, cioè quando sei arrivato in Giappone, come ti sei trovato, una volta trasferito, diciamo. Ma dunque lì, il punto è che un ente di ricerca è comunque un contesto completamente diverso da un contesto lavorativo della caisha, della ditta giapponese. È un contesto più libero in cui fai, poi io lì al tempo era responsabile di un gruppo di ricerca, quindi ci si lavora bene, è anche più, ha una mentalità più aperta, c'è più gente che avesse a usare l'inglese e così via. I problemi, diciamo, vengono su scale temporali più lunghe perché poi alla fine il Giappone non è sempre vuoto per piene, sempre ci sono eccezioni mirabili anche italiane di professori ordinari lì, associati o ricercatori di altissimo livello, non è un paese che poi vuole lo straniero, cioè loro si riempiono spesso la bocca con questa coxaica che è l'internazionalizzazione, vogliono aprire, internazionalizzare e così via, ma non è vero. Cioè sono queste cose, queste slang che loro vogliono, in realtà vogliono molta manovra a basso costo, soprattutto dal sud-est asiatica, li fanno entrare, c'è anche pochissima immigrazione, li fanno entrare con questa scusa dei visti di tre anni e poi ti buttano fuori, ma soprattutto ti usano veramente appunto come schiavi e nel caso della ricerca vogliono molti dottorandi post-doc, magari anche un post-doc di buon livello, però poi la percentuale di gente che trova una posizione permanente lì in Giappone straniera è molto molto ridotta, perché poi c'è questa barriera non solo linguistica, ma è proprio la barriera della cricca, insomma, che magari non è negativa e così via, ma che è quella che è figlia del fatto che poi quello è legato all'esame universitario, che se tu vai nelle sette sorelle, nelle sette università famose, poco chioto, allora hai svoltato, cioè come la Grande Col, la Bocconi, eccetera, eccetera, ma è proprio una carriera parallela nei ministeri, cioè se tu fai lato dai, fai carriera, se no, no, mentre da noi, da noi c'è tutta una serie ovviamente di impicci e imbrogli, però in teoria se io ho la laurea in fisica, presa con i bollini della Nipiol o presa all'università più prestigiosa italiana sono uguali, sono equiparate, lì no, se stai da un certo punto vieni da tutto un contesto e quindi fai più carriera. Ok, no, è una problematica anche perché comunque credo che abbiano bisogno di immigrati non solo temporaneamente, ma perché sono in una popolazione lettamente in calo. la curva demografica è come quella italiana salvo che noi abbiamo l'immigrazione e quindi ci tiene in piedi il sistema pensionistico e il sistema appunto dei giovani. Lì è completamente in calo, si sta spostando tutto verso gli anziani quindi hanno bisogno di gente che gestisce gli anziani o robot che tanto stanno sviluppando, però è un sistema che non si può reggere ma non hanno assolutamente intenzione di fare nulla, tanto più che poi in questi giorni ci sono tantissimi bei servizi anche di Pio de Mie su Sky di G24, il Giappone è chiuso agli stanieri, cioè non è possibile tornare se non in caso di circostanze particolari se sei uscito prima del ban del divieto di uscire perché non è manco possibile uscire o meglio se esci poi non rientri perché fondamentalmente il governo dice se tu esci siccome gli stanieri sono quelli che portano il virus questo è il discorso che loro fanno non vi facciamo rientrare quindi dall'estero non si può rientrare salvo casi assolutamente eccezionali con previa presentazione di documentazione eccetera eccetera e soprattutto se sei dentro e esci non è che puoi uscire per andare al funerale di tuo padre perché non ce ne può fregare di meno questi sono casi successi sì sì ma ho sentito anche altri youtuber che ne parlavano a riguardo e sono situazioni surreali dal mio punto di vista poi capisco che è l'unica nazione che io sappia che fa una discriminazione su base razziale cioè io posso capire tu dici tu non vieni dall'Italia perché è zombie land va bene però se partono in due uno straniero e un giapponese vengono a zombie land Italia il giapponese può tornare e l'italiano no allora non ha nessuna validità medica virologica di qualunque cosa se non che appunto è un paese che appunto è molto chiuso e poi è chiaro quindi nel caso mio a me grazie al cielo cambia poco perché lo strumento sta sulla stazione spaziale è più remote working così quindi date o li vengo qua quindi è un caso iper ideale iper però comunque sei comunque separato dalla famiglia da mesi è una situazione un po' particolare quindi sì ma rispetto a gente che ha perso il lavoro che ha la casa che paga lì l'affitto le cose eccetera eccetera io non mi posso proprio lamentare però è una situazione completamente folle soprattutto perché appunto non ha nessuna base virologica e così via c'è da dire anche che forse solo la Germania ha poi introdotto la reciprocità sul Giappone perché in generale nel campo diplomatico dice tu non puoi portare le palle rosse in Giappone allora io non ti faccio portare le palle rosse in allora io so che dalla Germania una mia amica giapponese è rientrata in Giappone quindi l'hanno fatta rientrare però lei è giapponese ha comunque no no ma rientrare sì ma è che in teoria la reciprocità vorrebbe dire allora in Europa visto che è chiuso il Giappone agli europei i giapponesi non possono in Europa questa sarebbe la reciprocità che è molto tra virgolette da ragazzini se tu mi fai una cosa a me io ti faccio la stessa cosa però in campo diplomatico è lo standard cioè gli accordi sono sempre bilaterali in cui se poi apriamo non so libero scambio nelle frontiere è chiaro che non è che è avverta solo in entrata è avverta anche in uscita però vabbè lì bisogna sperare che la situazione migliori anche perché io ci vorrei rientrare in Giappone però anche lì è tutto da vedere la vedo dura per me soprattutto per me rientrare ma anche per il turismo perché appunto è completamente chiuso al turismo e però vogliono fare le olimpiadi cioè queste sono quelle cose che ti mandano sono belle perché sono questi costrutti di follia kafkiani che di nuovo se tu li prendessi e li spostassi in Italia dice ecco i soliti peragottari cacciottari italiani che fanno casino invece stanno lì in un paese che in teoria è percepito come il più civilizzato il più avanzato del mondo un giorno con Ovar facemmo la parte sull'ansia andate a prendere su fantascientificas la parte sulle galere giapponesi perché poi c'è tutta una serie di cose nella sindrome di Nomaru magari metto anche lì il link esatto non abbiamo mai fatto la puntata di Gon che era il capo della Nissan incarcerato c'era stato un colpo di stato interno alla Nissan è stato sei mesi in carcere perché anche lì ti posso tenere 40 giorni per capo di più d'azione senza poi poi vabbè ma lì è fuggito anche all'estero dopo poi è scappato a Capodà si è nascosto nel contrabbasso però ha lasciato il suo collega insomma è una situazione molto complessa ecco un'ultima cosa sempre su questa cosa qui del ban agli stranieri invece gli americani possono entrare a uscire liberamente dal Giappone senza problemi ah sì no questo io i militari americani possono vabbè i militari però è diverso vabbè lì hanno perso la guerra voglio dire è vero che sono passati 70 no no io stico scherzando ma è vero che sono passati 75 anni ma Okinawa è una delle grosse basi americane nel sud-est asiatico crea un sacco di problemi perché insomma il marine quadratico medio il joke americano non è che sia proprio questo premio nobel mancato sempre parlando con l'accetta e quindi poi quando vanno nei bar nell'inter fanno un sacco di guai anche gli osprei che sono questi elicotteri aereo verticale tanto che si perdono i pezzi e così via quindi lì è perché c'è un trattato legato al fatto che quelli comunque hanno perso la guerra e che comunque in un contesto folle in un contesto del sud-est asiatico molto complesso con Corea del Nord Cina e così via è chiaro che una presenza statunitense seppur mal sopportata giustamente mal sopportata soprattutto dalla popolazione di Okinawa che comunque è giapponese ma fino a un certo punto perché c'è una storia molto diversa è sempre nella seconda guerra mondiale quando gli americani sbarcano ci fu un'atrocità soprattutto dei giapponesi mainlanders rispetto alla popolazione di Okinawa insomma è una situazione molto molto complicata Ok allora visto che stiamo già andando belli lunghi e ne avremo avremo ore da parlare ti chiedo l'ultima cosa la tua impressione sul Giappone cioè raccontaci un po' il tuo Giappone come lo vedi se ti piace cosa non ti piace molto rapidamente qualche giusto qualche l'impressione è positiva poi innanzitutto se uno va lì per viaggiare è un posto fantastico non c'è microcriminalità stai sicuro se ti perdi le cose le ritrovi una mia collega si è persa anzi si è persa ha lasciato la telecamera tutte le macchine fotografiche sul tren le hanno ritrovate grazie alla santa segretaria quindi è assolutamente positivissimo sono tutti gentili più o meno ho torto collo quindi è assolutamente positivo per lavorarci non è altrettanto positivo come se tu ci vai per vacanze ma se no sarebbe un'utopia e soprattutto nelle ditte nelle ditte sono particolarmente 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 decoccio c'è questo cartone animato a Grezzo che è molto surreale sta su Netflix e io guarda non sono riuscito a vederlo neanche tutto perché ritrovavo talmente tante delle idiosincrasie delle ditte non tanto dell'ambiente di ricerca ripeto che ciazza altri problemi ma non quelli che poi alla fine risultava pesante perché dico che insomma le gerarchie quelli che vanno a fumare quelli che fumano solo per andare a fumare col capo in maniera poi da fare la comunella col capo le donne fino a un certo punto fino a qualche anno fa se ti sposavi dove lasciare la ditta perché dovevi badare a tuo marito adesso era se tu hai figli devi lasciare perché devi badare a tuo marito dei figli quindi sono indietro anni e anni dovremmo fare una puntata anche su questo anzi dovremmo fare molte puntate su tutto questo io direi che siamo già arrivati a un bel orario chiudiamo qua la puntata io ringrazio ancora Marco Casolino di avermi concesso questa ventina di minuti del suo tempo è il minimo e noi ci rivediamo alla prossima puntata ciao ciao